Le insidie non più nascoste del light. Ancora convinte di poter dimagrire con latte scremato e bibite zero? Il nostro corpo non si fa ingannare da cibi impoveriti e addizionati di sostanze artificiali. A rischio la linea e il benessere. Spetteguless antistress. Il gossip fa bene a chi lo fa, ma deve essere a fin di bene. Spettegolare abbatte infatti lo stress e allontana i sensi di colpa. A sostenerlo uno studio dell'Università della California. Il supporto e l'allevamento materno aumentano il volume del cervello del bambino. Cuore materne indispensabili per il corretto sviluppo dell'ipocampo, un'area del cervello cruciale in materia di stress, emozioni e memoria. Le patologie cardiovascolari uccidono più del cancro. In America venerdì scorso donne e rosso contro il rischio cardiovascolare killer. I disturbi legati al cuore uccidono più dei tumori. Indispensabile una tempestiva prevenzione. Chi dorme non piglia pesci? Non sempre. Problemi di linea? Non trascurate il sonno. Chi dorme poco è a rischio ipertensione e sovrappeso. Necessarie 7-8 ore di riposo notturno. Cibo e sport antifreddo. Clima siberiano? La soluzione è attivare il metabolismo. Ci vogliono una dieta normocalorica e il giusto movimento. Buona lettura!